Ben tornati, ben arrivati a questo secondo momento, secondo appuntamento del 30 di settembre. Oggi abbiamo iniziato un'oretta fa lanciando un primo grande segnale, il cambio del nome del brand del nostro portale. Dopo 11 anni siamo passati da case per ferie per gruppi a Grupix. È una sfida, è una sfida grandissima. Avremo ragione, non avremo ragione, ai posteri l'ardua sentenza, ma perché? C'è una logica, la logica è quella di dire diamo spazio a nuove strutture ricettive. Ci sono tante strutture ricettive che vogliono e che lavorano con il mondo dei gruppi, ma che nella descrizione e denominazione di case per ferie non si ritrovano e non si ritrovavano. E quindi questo tarlo qua ce l'hanno messo tante strutture, il tarlo ha iniziato a girare, 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 uno, due, tre volte e circa sei mesi fa abbiamo deciso di portare avanti questa scommessa. Andiamo avanti, quindi primo momento, secondo momento. Questi incontri come li abbiamo pensati in questi anni? Li abbiamo pensati con la logica, la filosofia di lasciare qualcosa a chi ci segue, lasciare in termini imprenditoriali, in termini di cultura imprenditoriale turistica. E quindi la sfida grossa è quella di andare in giro per l'Italia, ma non solo, e incontrare fisicamente o meglio online persone che in un qualche modo ci possano regalare dei consigli, delle idee, degli spunti, dai quali poter partire per andare a migliorare, a rendere sempre più interattive e vitali le nostre strutture ricettive. E quindi arrivo, ci ho impiegato un minuto ma ci voleva, al Maurizio Testa. Grazie e benvenuto. Grazie a voi, grazie a voi, piacere dell'invito e felice di essere con la vostra realtà. Bene, Maurizio è presidente di Artes, società Benefit, che ha un'importante esperienza all'interno di cosa? Del turismo esperienziale. Io qui mi fermo e lascio la parola a Maurizio, che ci racconterà, o meglio ci stuzzicherà, perché la sfida è questa, ci stuzzicherà facendoci scoprire, o meglio sottolineando, alcuni aspetti di questo mondo. Che conosciamo sicuramente, qualcuno lo conosce, sicuramente lo conosciamo in tanti, ma migliorare, crescere e ricevere consigli è ciò che ci fa andare sempre più su. Quindi parola a Maurizio, prego. Grazie, grazie a tutti. Come vedete, questa slide, diciamo, di questa presentazione che farò con voi, si rivolge al mondo dell'accoglienza. Ora, tutti voi siete case per ferie, abbiamo anche lanciato l'invito tramite i nostri canali, in generale, al mondo dell'accoglienza, per cui le cose che dirò possono andare un po' bene, con vari risvolti, con diversi risvolti, un po' per tutto il mondo dell'accoglienza. Allora, cominciamo questa avventura, che ci prenderà circa 60 minuti, penso, no? Mi confermi che avremo 60 minuti, devo stare più corto? Chiedo al presentatore. Sì, se riusciamo a stare un briciolino più corti, perché alle 6 e mezza siamo live con un altro esperto di fiscalità, quindi 50-55, mettiamola così. Ok, benissimo. Allora, andando veloce, parleremo di quattro, diciamo, aree. Allora, intanto, da dove nasce e cos'è il turismo esperienziale? Perché dobbiamo fare questa premessa? Perché oggi, nel settore del turismo, la parola esperienziale è diventata completamente anacquata, cioè qualsiasi cosa turistica è un'esperienza, anche una visita guidata tradizionale, anche fare quattro passi, diciamo, a Siena. Ecco, quindi, dobbiamo fare un po' la fatica di tornare al senso che ha dato spunto a questo settore turistico che si porta dietro tutta una serie di innovazioni e che, alla fine, tutto il discorso che faremo, porta a darvi qualche pensiero su come e sull'importanza di distinguere le vostre strutture, grazie a queste formule di turismo esperienziale di cui parleremo. Vado veloce, vi anticipo che questa, diciamo, questa chiacchierata è abbastanza densa, per cui, per chi la prende come un momento di formazione, suggerisco anche di prendere qualche appunto, perché in fondo ci sarà anche, se abbiamo tempo, qualche domanda e risposta. Adesso io vado via abbastanza veloce e spero di non perdervi nel percorso. Quindi, da dove nasce, che cosa è il turismo professionale e sostenibile, quali sono le opportunità per il settore dell'accoglienza, se riusciamo vi faccio vedere qualche buona pratica e qualche caso di successo, vi spiego un attimo, vi faccio vedere qualche video, se avanza tempo faremo domande e risposte. Bene, allora, fatta questa agenda, cominciamo. Allora, da dove nasce e cos'è il turismo esperienziale? Allora, cominciamo nel 1999, pensate, sono passati ormai 25 anni, esce questo libro che si chiama The Experience Economy, da due personaggi che sono ora famosi del mondo, diciamo, del turismo moderno, che si chiamano Pine and Gilmore. In sostanza, vedete il payoff, work is theater, every business is a stage. Quindi, la forma dell'economia e dell'esperienza, che non è solamente il turismo, oserei dire che il turismo è arrivato un attimo dopo, interpreta il marketing in un modo nuovo, adesso vi farò degli esempi. Da che cosa nasce questa nuova tendenza? Economie occidentali mature, un'evoluzione sociale, io adesso non entro a descrivere il perché e per cosa, prendeteli come titoli. Ecco, un mondo connesso in rete, siamo alla fine degli anni 90, non è che internet aveva pochi anni. Più facile, quindi, se siamo connessi in rete, condividere delle passioni comuni, da cui sono nate poi, nel corso del tempo, le tribù glocali. Glocali vuol dire globale e locale, poi farò degli esempi. In questa visione, il consumatore, per via anche di questo cambiamento sociale, anche psicologico, vuole diventare protagonista della relazione con l'argomento con cui si relaziona per l'acquisto. Addirittura, questo fenomeno diventa attrattivo per il mercato cinese, che nel frattempo stava aumentando, siamo alla fine del 2000, scusate, del novecento, per cui, mano a mano, il mercato cinese ha sposato questa logica. Nasce quello che viene chiamato il prosumer, anche detto in italiano, il consumatore. Detto questo, allora, che cos'è il prosumer? È il proactive consumer, è il consumatore proattivo, cioè è il consumatore che vuole essere protagonista attivo nel processo di produzione del prodotto che acquista. Sembra una cosa impossibile. Adesso vi faccio vedere un paio di situazioni che non c'entrano con il turismo, ma ne potrei citare altre 500, dove questo modo di stare sul mercato ha preso mano a mano piede. Allora, primo esempio, innovare sull'esperienza di acquisto. Allora, qui avete Abercrombie & Fitch. Adesso non so se voi conoscete questa catena di punti vendita di vestiario, alla fine. Allora, già cominciate a vedere che c'è qualcosa di particolare. Allora, questi hanno creato quasi uno spettacolo per andare ad acquistare, per cui si crea un momento di alta emotività. Allora, intanto ti mettono in coda, tutti in coda, anche se dentro è vuoto. Quindi il senso della scarsità, il senso dell'attesa, il senso come andare appunto a vedere uno spettacolo e bisogna fare la coda. All'ingresso ci sono questi ragazzi molto belli, torso nudo, fotografia, quindi la foto, tu sei protagonista della foto con questo, diciamo, bel ragazzo. Entri dentro, il negozio è quasi al buio. Ok? I capi, alcuni capi, sono illuminati come se fossero dei quadri e quindi sembra quasi di essere in una sala di un evento, di un concerto. Ecco, questo è il posizionamento per il prosumer che si sente dentro uno spettacolo, dentro un evento, protagonista di un'avventura, diciamo, di uno show. Andiamo a vedere un altro esempio. Parliamo del mercato dei runners. Il mercato dei runners c'è sempre stato. Mercato di gente patita. Qui stiamo parlando dei talebani runners, non quello che corre, diciamo, episodicamente. Se voi conoscete questo mercato, è gente che ha una certa alimentazione, che fa certe corse, poi vanno anche, non so, a lavorare, hanno una trasferta all'estero, si portano dietro le cose, corrono, ovunque vanno. Allora, che cosa è successo? Che una ventina d'anni fa la Nike ha inserito un chip nella scarpa, successivamente l'ha messo in una specie di telefonino, ma inizialmente il chip era nella scarpa, per Nike, scarpa più chip, GPS, uguale ti traccio, ti traccio con una app. Quindi io vedo i percorsi che tu fai. Intanto ti metto dentro la tribù. Ecco, questa parola della tribù, adesso si usa poco, ma a inizio 2000 si usava molto. Quindi tu sei dentro la community della Nike Run Club. Ma cosa succede? Che tu sei produttore degli itinerari. Vedete, no? L'app, io vado, sono di Milano, vado a Berlino e dico, ma dov'è che posso correre in modo sicuro? E mi fanno vedere l'itinerario che i runners di Berlino percorrono abitualmente. Quindi io che sono un runner, contribuisco in una logica di crowding, come si diceva una volta, contribuisco a realizzare l'applicazione. Ecco, non so se mi sono spiegato. Quindi compro la scarpa, c'è un servizio, io come runner che ho la scarpa col chip, vengo tracciato e contribuisco a definire gli itinerari che saranno poi utilizzati da un altro soggetto. Potrei fare altri mille esempi, ma il tempo è poco, vado via veloce. Esempi nel turismo. Quindi a un certo punto, diciamo verso la metà della prima decada, del 2005-2006, nel turismo è chiaramente scoppiato il fenomeno del turismo esperienziale. Quindi l'economia dell'esperienza che è pervasiva su tanti settori di mercato entra anche nel turismo. E qui vediamo degli esempi. Uno va a Bali, adesso non so dove siano, e danza, vedete, con... Vi faccio notare sempre con le persone del posto. Vado in Peru e sono con una signora, devo imparare a colorare la lana dell'alpaca. Vado in India e devo lavare gli elefanti. Cioè faccio cose che fanno loro. Vado in Indonesia, penso che sia, e imparo a coltivare l'insalata con gli strumenti tipici, quindi con la loro cultura, e notate sempre con le persone del posto vicino, che ovviamente non sono degli operatori turistici, ma sono le persone del posto. Quindi entra una formula turistica che prima non esisteva. Questa è novità pura. Adesso cominciamo a vederla dappertutto. È arrivata anche in Italia con quasi 15 anni. Pensate, dopo 15 anni, diciamo che entro dal 2015 lentamente al 2020, anche in Italia, adesso l'experience è, come dire, scontata, ma siamo entrati nel mercato quasi 15 anni dopo. Allora, beh, qui vedete che vanno a pescare, non so bene se i gamberi o qualcos'altro, e questo vi dà l'idea quindi di inserirsi nella cultura locale con le persone locali a fare delle cose locali secondo le passioni del turista che dice, mi piace fare questa cosa e la vado a fare. Alcune statistiche, e sto parlando a questo punto di tutto il mercato, non solo turistico. Questo fenomeno è scoppiato a inizio degli anni 2000, eravamo già 8 mila miliardi di acquisti legati alla componente esperienziale. Chi è soprattutto coinvolto sono i millennials, quindi già dieci anni fa il 52% dei millennials, o meglio, scusate, il 52% del budget dei millennials verte su acquisti del tipo che vi ho fatto vedere. Nel turismo, questi sono dati che vi voglio far vedere perché personalmente ho cominciato a occuparmi di questo tema nel 2014. Guardate a livello mondiale che cosa si diceva. Dico ancora, in Italia era zero, zero questo fenomeno, quindi già allora era esploso il 55% dei viaggiatori dichiara che desidera vive esperienze uniche, guardate bene le parole, uniche e interessanti, e ancora di più, un 36%, siamo nel 2014, vuole cararsi nella vita e nella cultura locale, esattamente come le fotografie che vi ho fatto vedere prima. Allora, riassumendo questo tipo di situazione, noi di Artesse, che quindi, come dire, io sono qui a rappresentare appunto questa società che tra l'altro Artesse è l'acronimo di animazione, relazione, turismo esperienziale, è venuto fuori questa cosa che sembrava carina anche a livello nazionale ma anche internazionale. Allora, che cos'è il turismo esperienziale? Fatti tutti questi discorsi dove i turisti mettono le mani in pasta, cioè sono attivi, fanno, non sono passivi, si immergono nella cultura locale in una relazione intima con le persone del posto, diventano cittadini temporanei. Questa dimensione è esplosa, come avete visto, quasi un 40% degli aggiatori intervistati dice voglio fare queste cose. Allora, se andiamo a vedere il mercato del turismo, da sempre un 10%, quindi a parte l'albergo, a parte l'aereo, un 10% sono le cosiddette activities, le attività, si chiamano anche tours and activities. Quindi, una volta, che cosa erano queste attività? Le activities erano attività generiche, quindi la guida, con la guida turistica faccio un giro, è un activity, vado in bicicletta, è un activity, vado a cavallo, è un activity, e poi vado sugli stereotipi tematici, vado al Colosseo, vado a Venezia, ecco, quindi, diciamo, era un tipo di attività molto generica, il turista veniva sempre guidato, quindi non era attivo, e l'approccio era settico, cioè non c'era un vero contatto con le persone del posto, era come vedere i pesci nella vasca appunto dell'acquario. L'experience si porta dietro, come avete visto, tutta un'altra logica, andiamo a cercare lo specifico di un posto, che noi assumiamo questa parola, solo lì trovo, che ne so, il paesino dove è nato Dante, Dante è nato a Firenze, non è un paesino, ma io potrei immaginare un'escursione di alcuni giorni sui passi di Dante, per esempio, è chiaro che allora diventa un'esperienza tematica, cioè, mi interessa la cultura, mi interessa l'artigianato, eccetera, quindi scelgo l'experience non tanto in base alla destinazione, ma in quanto alla motivazione sui temi contenuti nell'experience. Diventa il turista prosumer, abbiamo visto, diventa proattivo e protagonista, c'è questa relazione con le persone del posto, diventa un cittadino temporaneo, si sente veramente a casa sua per quella giornata, per quella settimana. Quindi, questo cocktail definisce l'experience. Facciamo un esempio, ho una persona che fa trekking da qualche parte, è un activity, ma se io vado a caccia, faccio trekking per andare a caccia di biodiversità, diventa un experience, cioè, vado in un posto, voi non so se lo sapete, ma in qualsiasi posto ci sono sempre delle varianti di piante, insetti che sono specifici di quel posto. E quindi, uno che è appassionato di natura, di botanica, di bosche, eccetera, è, come dire, non vede l'ora di andare a fare un safari fotografico camminando in mezzo a questi boschi, queste montagne, queste colline, per cercare la biodiversità che è solo lì. Quindi, il tematismo qui è natura, solo lì le piante o anche, diciamo, la flora e la fauna che trovo. Ecco, spero che l'esempio, un altro esempio, sono in vacanza, vado a cavallo, sono in montagna, faccio un giro a cavallo, giro a cavallo, lo posso fare ovunque, non è specifico, sì, certo, sono in quel posto, ma potrei essere in Jugoslavia, potrei essere in Australia, diventa un experience, se il cavallo diventa il mezzo di trasporto, per esempio, per andare in una malga delle montagne italiane, dove trovo il malgaro, vedete, sto signore con i baffoni, il formaggio del posto, che ne so, il mezzano, l'asiago, quello che è, e magari faccio il formaggio insieme con lui, magari mungo le mucche insieme con lui, ecco, non so se adesso cominciate a capire come l'activity diventa experience e ha questi ingredienti. La cosa interessante è che le attività di fatto sono prodotti di massa e vanno sugli stereotipi, bicicletta, poti di bicicletta, cavallo, tantissimi a cavallo, eccetera. Qui invece andiamo su quello che si definisce la massa di mercati, a ciascuno il suo, cioè qui c'è una ipersegmentazione perché ognuno cerca la cosa che è legata alla sua passione. Le passioni sono infinite per cui capite che i mercati sono molto piccoli ma molto, diciamo, c'è una forte fidelizzazione. I tematismi dove c'è il solo lì qui sono riassunti in sette situazioni molto ampie, no? L'artigianato, per esempio, noi abbiamo un prodotto che si trova a Matera, a Matera c'è il tuffo e si va da un signore che fa delle piccole sculture con il tuffo e i turisti fanno la scultura con il tuffo. Pure l'arte, figuriamoci in Italia, la cultura, ecco, sono tutte cose che l'Italia, voi sapete che arte, cultura, eccetera, l'Italia ha probabilmente più del 60% del patrimonio mondiale, quindi non ci manca niente. Storia, natura, gastronomia, in realtà dovrei scrivere enogastronomia, ci sono viaggi solo sul vino, non esistevano viaggi solo sul vino vent'anni fa, il vino adesso è un mercato enorme, il viaggio sull'enogastronomia, un tematismo importante, è una nicchia enorme, non è una piccola nicchia, quindi io ho conosciuto gente che fa viaggi in tutta l'Italia passando da cantina a cantina, andando a capire il tipo di vino, vini preziosi, come sono fatti, come si degustano, come si accompagnano al cibo, eccetera. Sono viaggi che non c'entrano niente con il Colosseo o anche la spiritualità in tutte le sue varianti. Ok, questa era la premessa. Adesso parliamo, quindi, se c'è questo mercato che va in accompagnamento, non è che sparisce il turismo solito, il turismo abituale un po' diminuisce, aumenta il turismo esperienziale. ecco perché, faccio un inciso, l'Italia non è molto cresciuta nel turismo, perché è arrivata molto tardi ad aggiungere questo tipo di turismo al turismo che tanto la gente viene da sola, perché questa è un po' la logica diciamo che abbiamo in Italia. L'Italia è così bella che la gente viene da sola. Dovete sapere che le statistiche ci dicono che l'Italia è la più desiderata meta, ma è la quinta o la sesta adesso meta acquistata. Quindi capite che c'è un problema. la più desiderata e la sesta acquistata c'è qualcosa che non va. Ecco, noi siccome abbiamo tante cose belle è vero che investiamo nel turismo ma apparentemente siamo ancora su un turismo generalista anche se un po' alla volta sta arrivando. Quindi parliamo adesso di turismo professionale sostenibile. Perché parlo di professionale? Perché in questo specifico settore questo è misurato statistiche sondaggi. Il mercato straniero sto parlando del turismo esperienziale ritiene che spesso gli operatori italiani siano abusivi improvvisati poco affidabili poco sicuri mentre altre destinazioni Francia e Spagna hanno una solidissima reputazione e hanno fatto tesoro e sono partiti molto prima. Questo tipo di turista è un turista di valore per cui chi se lo prende prima poi se lo tiene se c'è questa reputazione del sistema Italia. Vi faccio un esempio le famose lezioni di cucina e le lezioni di cucina si portano dietro tutta una serie di normative e non è sufficiente andare dalla nonnina che ti fa le tagliatelle con ragù cioè bisogna avere tutta una serie di cose anche se la nonnina è una persona del posto eccetera quindi chi ti accompagna a fare queste cose deve essere preparato non può essere il baffone del paese che si improvvisa ecco allora questa è la reputazione quindi per recuperare dobbiamo se vogliamo attirare un turismo di maggior valore servono professionisti che sappiano fare prodotti in grado di garantire la qualità dei contenuti e la sicurezza mettete sempre insieme le due cose perché di sicurezza se ne parla poco nel turismo soprattutto nel turismo intermediato la sicurezza vale mille un operatore un tour operetto non verrà mai da voi se non si sente sicuro che la gente non si fa male non si intossica eccetera quindi diciamo noi siamo nati più o meno nel 2014 e per far fronte a questa problematica e a questo mercato abbiamo strutturato una metodologia e abbiamo definito quello che si chiama disciplinare quindi si deve fare con questa griglia che ha preso il nome di story living experience voi forse avete sentito storytelling quindi si raccontano le cose come se fossero delle piccole vicende delle piccole storie e tu però ascolti in questo caso invece tu la vivi la storia quindi sono avventure dove tu sei protagonista e tutta una disciplina per realizzare appunto prodotti sicuri di qualità soprattutto di altissimo livello emozionale e relazionale ecco sulla base di queste competenze è nata la figura dell'operatore per il turismo esperienziale che noi consideriamo come se fosse lo chef del turismo esperienziale il cui registro è appunto gestito da questa associazione che si chiama Assotes che è riconosciuta dal ministero per lo sviluppo economico tanto per dire perché professionale ho cercato di spiegarvi il motivo vi faccio vedere allora ho detto che c'è un disciplinare che c'è una metodologia è abbastanza complessa e non c'è tempo per farla vedere vi faccio vedere solamente una una delle componenti una delle dieci componenti ecco come gestisco un itinerario come gestisco la relazione durante un itinerario al fine di fare di governare l'emozione uno dice ma allora è una cosa finita no è una metodologia è uno scheletro che tiene su un prodotto il prodotto è tutto genuino autentico però c'è modo di farlo di organizzarlo quindi tutti questi momenti vedete sono preparati in modo che pur essendoci situazioni che poi cambiano in funzione dei turisti però chi governa questo prodotto sa che se segue questo binario il risultato è un prodotto veramente emozionante memorabile noi l'abbiamo visto tutti i prodotti che abbiamo contribuito a realizzare hanno dimostrato questa potenza quindi il momento di contatto il momento di familiarità in cui cominciamo a sentirci un gruppo tutti insieme e non ognuno per conto suo momento di immersione quando cominciamo l'avventura il momento di identificazione quando realizziamo i vari compiti siamo protagonisti il culmine quando l'avventura ha diciamo l'impresa che dovevamo compiere si realizza grande festa emersione grandissima festa e poi ci lasciamo anche quando ci lasciamo va fatto in un certo modo poi il turista torna a casa sua dentro di lui si scatena quello che si chiama la trasformazione qualcuno anche chiama il turismo spedenziale in un modo che è quasi impronunciabile il transformation tourism diciamo però non ha avuto molto perché sostenibile allora da un'intervista alla docente universitaria Roberta Salvarani ve la leggo più che di un tipo di turismo si tratta di un atteggiamento di rispetto nei confronti dell'ambiente soprattutto a favore delle persone che vi vivono quindi in overcrowding entrando in relazione con loro condividendo il più possibile la loro vita tutto quello che abbiamo detto fino ad ora dunque se voi vi occupate di sostenibilità anche gli hotel anche le strutture di accoglienza ne hanno da fare esiste ormai in Europa uno standard ormai consolidato che si chiama GSTC Global Sustainable Tourist Council che prevede tutta una serie di parametri che vanno curati affinché la tua struttura la destinazione possa avere un certificato di sostenibilità ecco uno dei parametri è questo che ci riguarda la protezione del patrimonio culturale locale presentando ai turisti la cultura locale tradizionale favorendo un incontro disciplinato con le popolazioni indigene e ai siti di rilevanza storica culturale naturalistica ecco questo era per spiegarvi il concetto di sostenibilità che si porta dietro al turismo esperienziale di valore allora solo per per farvi vedere volete vedere un po' di questo tipo di prodotto andate su questo sito si chiama join place joy la gioia join insieme è un gioco di parole play giochiamo place in quel posto ok è la vetrina di tutti i prodotti realizzati dagli operatori per il turismo esperienziale dell'associazione Assotes dunque tutte le cose che vi ho detto e anche quello che vi stavo per dire sono riassunte quindi se uno fosse interessato su questo testo che è uscito ormai un anno fa turismo esperienziale professionale e sostenibile che è stato edito da Franco Angeli per l'università e per le professioni per cui è riconosciuto un testo di grande valore che spiega appunto il perché come si fa le buone pratiche ai casi di successo ecco questo per dire che questo nostro intervento è una sintesi estrema di quello che c'è di dentro allora vediamo se discutere avanti ora parliamo di quali opportunità per il settore dell'accoglienza allora comincio a farvi vedere questa slide tutti voi conoscete Bruno Barbieri forse avete visto il programma 4 hotel nel programma 4 hotel lui ha bisogno di verificare alcune cose una delle cose che ci deve essere è l'abbinamento tra la struttura di accoglienza e l'experience nel territorio quindi volete avere una struttura di accoglienza non rimanete un passo indietro ma state al passo e cercate di avere una vostra offerta di experience adesso spiegherò bene questo concetto perché sicuramente qualcuno di voi in qualche modo sta facendo spirit o le sta vendendo o le sta pubblicizzando vediamo un po' le differenze come allora cominciamo a distinguere tra due forme di turismo il turista di destinazione il turista di destinazione verso il turista di destinazione cioè che sceglie la destinazione e quindi dice andiamo in Sardegna e poi si pone il problema o di acquistare un viaggio da un tour operetto o alza il telefono e chiama e chiama l'albergo che lo accoglie allora molti alberghi hanno diventano un hub di esperienze di terzi mettono lì i fogliettini ci sono le cose da fare ma al di là di farne la promozione e non tutti la fanno di fatto non fanno vendita queste sono le cose che si fanno nel territorio ok alcune strutture sono dotate scusate in gioco di parola di strutture per supportare le esperienze e le attività ho in mente due situazioni una evidente fare lezioni di cucina ecco l'albergo è predisposto si possono fare tanto si fanno all'interno dell'albergo oppure io sono un albergo dedicato focalizzato sul ciclismo allora avrò l'officina in modo che arrivano i turisti in bicicletta e si devono riparare la bicicletta eccetera e io devo avere una piccola officina per consentire questa attività cambia tutto col turista di motivazione allora col turista di motivazione se io voglio dare un prodotto di valore e voglio cogliere questo turista che non è un turista generico ma è un turista che ha il motivo per venire perché dice qualcosa che gli interessa ok non sto parlando del colosseo perché lì stavo sullo stereotipo sto parlando appunto uno che viene perché è nato Dante l'altro perché c'è un castello antichissimo di un certo tipo uno perché deve fare le fotografie degli uccelli eccetera eccetera uno perché deve fare appunto con l'artigiano di Matera vuole fare i sassi eccetera allora io devo posso devo non è obbligatorio per avere un'offerta distintiva oltre all'offerta tradizionale perché comunque avrò sempre il turista di destinazione non è che sono esclusivi avrò un po' di uno un po' dell'altro ma se voglio attirare il turista di motivazione ripeto che ha più valore anche perché metto insieme il costo dell'experience il costo della camera messi insieme quando si fanno i bundle il marketing gode perché diciamo il margine che si fa di solito un po' di più che vendere le due cose in modo singolare quindi faccio dovrei fare un'offerta distintiva combinando accoglienza più esperienze identitarie ed esclusive identitarie vuol dire solo lì quindi solo nell'identità del posto quindi vieni qui che io ho qualche cosa che non trovi se io mi invento adesso una cosa sei appassionato di francobolli qui c'è il francobollo più antico del mondo per esempio o qua ci sono i francobolli dal tempo dei borboni allora i filatelici hanno i loro giornali noi pubblicizziamo sui loro giornali che si può fare un bel itinerario o venire da noi sui francobolli dei borboni e quelli ci vengono e questo è provato è chiaro che non andrò mai al TTG a proporre questa cosa dovrò andare sui canali dove ci sono i turisti di motivazione esclusive cosa vuol dire che sono mie non c'è nessun altro che offre quel prodotto quindi la mia struttura mette insieme il servizio di accoglienza più un servizio di animazione esclusivo identitario come li vendo queste cose allora il turista di destinazione che è quello degli stereotipi oppure stanziale sta sotto l'ombrellone oppure va in montagna a fare passeggiate acquista questo acquista sempre la destinazione le experience non le compra mai prima mai quindi va lì dice vabbè sono qui in vacanza magari un giorno alla settimana faccio un'escursione con la guida oppure faccio le cose che l'info point o l'albergo mi sta proponendo quindi dov'è che li che li compra sui portali guide me write eccetera ma anche su booking anche su Airbnb ci sono le experience che uno può acquistare oppure in struttura oppure appunto all'info point il turista di motivazione invece come dicevamo sceglie la destinazione in base ai tematismi di cui appassionato è tutto un altro modo di ragionare e uno dice ma dove sono questi bisogna andargli a trovare quindi come vedremo poi il marketing ha un suo ruolo quindi lui le esperienze probabilmente le acquista prevalentemente al momento del booking e com'è che fa il booking qui probabilmente abbiamo un'agenzia viaggio un tour operetto specializzato in Inghilterra ne ho trovati molti specializzati in questi tipi di viaggi anche negli Stati Uniti andate a vedere overseas adventure travel è un operatore turistico che fa solo viaggi di questo tipo solo in tutto il mondo ecco quindi anche qui accoglienza portali specializzati quindi voi se siete in grado di fare un buon marketing e so che tante strutture fanno un ottimo marketing bisogna cominciare a pensare come catturare questo tipo di turista poi vedremo in quali situazioni anzi lo vediamo adesso allora quindi adesso parliamo del turista di motivazione ok turista di destinazione ne sapete più di me è il vostro mestiere di tutti i giorni non c'ho niente da dirvi ok sì vi ho detto fate qualche esperienza ma sono dei gadget diciamo attività abbastanza semplici non molto complessi allora questo vediamo un pochettino come ci posizioniamo stiamo parlando a voi delle strutture di accoglienza intanto voi siete ovviamente in una destinazione e la destinazione può essere meno nota o più nota possiamo essere in bassa stagione meno o in alta stagione più vediamo quali sono quattro possibili posizionamenti di prodotto a seconda in quale stagione siamo e in quale destinazione ci troviamo se noi siamo a Venezia in Venezia abbiamo l'overcrowding e quindi diciamo che se io volessi provare a avere qualcosa di più valore che vuol dire anche aumentare i prezzi in questo caso perché l'overcrowding è il turista generalista ma io potrei dire guarda che io ti offro di più allora differenzio quindi noi per esempio se andate sul sito che vi ho fatto vedere troverete tantissimi prodotti anche a Venezia che sono quattro calli più in là ad agosto non c'è nessuno e tu vai dal signore che fa le gondole e tu vai a fare cose bellissime fuori dalla confusione quindi con la logica di prima con le persone poi fai eccetera se invece siamo in bassa stagione allora il sogno di tutte le destinazioni e penso anche delle strutture un po' più innovative è di destagionalizzare questo anche nelle anzi soprattutto nelle destinazioni note che diciamo nei mesi se fanno attività diciamo estiva nei mesi invernali fanno poco già le stagioni si sono un po' allargate anche per il cambio climatico ma queste attività di cui parliamo si possono fare tranquillamente tutto l'anno in modi diversi quindi la destagionalizzazione vuol dire che la struttura l'asset struttura viene utilizzato e diventa come dire un investimento che porta a risultati 360 giorni all'anno se siamo invece in alta stagione ma in un territorio poco noto avrò un sistema per attirare perché se è poco noto non vengono ma se io dico guarda che da me si fa una cosa che non fa nessuno e appunto scopriamo che è quello che è appassionato dei ravioli fatti con la carne di coniglio dice caspita solo lì ricordate il solo lì solo lì allora vado quindi ho un sistema per attirare il target tematico ok ricordate il target tematico fuori stagione la gente non sa cosa fare il weekend quindi mentre prima posso rivolgermi anche a un mercato internazionale tutte queste tre precedenti vanno sia mercato italiano ma soprattutto anche internazionale sotto ho sicuramente un mercato italiano weekend di prossimità prossimità che può essere 200 km non vuol dire 20 km se invece è la domenica allora sono 50 km e quindi io dico venite nel mio albergo ricorderete le famose cene con delitto ecco non è la cena con delitto ma io vi faccio vivere sabato e domenica un'esperienza bellissima vi divertirete farete eccetera ecco qui avrete la coda la coda perché la gente ha soldi sì ci sono quelli che non hanno soldi ma tanta gente ha soldi e non sanno che fare la domenica e il sabato bene adesso allora fatto tutto questo discorso devo tornare al marketing facendo questa precisazione se voi avete una distintività dell'offerta ci vuole marketing più tanto più è alta la distintività tanto più la devo far conoscere la devo come dire metterci i fiocchi tanto meno è distintiva tanto meno marketing devo fare per cui se io diciamo intermedio con buchi rbb io lascia stare l'experience c'è zero marketing fanno loro ecco questa roba qui per l'Italia è pessima il che non vuol dire che una parte delle vostre vendite non debba venire da buchi però è un turista generalista cerca un certo diciamo posizionamento prezzo qualità ma non viene da voi perché avete una cosa bella da vivere capite qui invece abbiamo una strategia quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto se voi entrate in questa logica devono portare una vostra strategia allora bisogna promuovere se voi avete un'offerta valida bisogna promuoverla come si fa a promuoverla? vediamo un attimo allora va pensata una strategia di marketing in funzione degli investimenti che avete e del posizionamento è chiaro che se voi siete un albergo a 20 stelle già spendete tanto marketing quindi non è un problema per voi inserire un prodotto più evoluto se voi non avete mai fatto marketing o cercate di capire come farlo anche col figlio il cugino e la zia quindi senza spedere fuori o lasciate stare ok oppure avete un meccanismo di passaparola avete tutte le indirizzi email dei vostri clienti storici allora a gratis gli scrivete guardate che torna da me ritorna che ha una cosa bellissima da farti fare quindi chiaramente adesso dico cose ovvie il sito la di words non di google i social le riviste il blog dicevamo prima voglio vendere il prodotto experience sui francobolli e devo andare sulla rivista dei francobolli chiaramente passaparola passaparola è importante perché se il cliente ha avuto quell'emozione di cui parlavamo prima quella genera la memorabilità sono passaggi psicologici non li ho inventati io c'è proprio tutta una scienza dietro la memorabilità parte al passaparola e alla ripetizione fiere eventi però fiere eventi che non sono quelli del turismo vado a fiera del francobollo ok e gli dico venite da noi che potete vivere tu che sei appassionato del francobollo un'esperienza incredibile a caccia dei francobolli di Borboni e i musei di Napoli per esempio ecco quindi stiamo sempre parlando del turismo tematico qui sto parlando di come si dovrebbe agire ecco allora uno dice caspita aspettate che non mi ricordo sì scusa adesso qui di fatto vi sto facendo le 4p del marketing quindi prodotto prezzo la promozione canale di vendita quindi prodotto e prezzo ci arrivo adesso allora noi dobbiamo avere in mente che il prodotto come lo imbastisco non è congelato deve essere flessibile perché io posso avere posso rivolgermi a seconda delle situazioni a un pubblico diverso iper segmentato una domenica faccio per un tipo di pubblico un'altra domenica per un altro un altro weekend per un altro vediamo un attimo quali sono le varie variabili italiani spendono poco l'Europa del nord spendono molto ma sono esigenti americani anglofoni spendono un sacco di soldi ti danno la mancia ma li devi trattare bene i cinesi di fascia alta questa è la newcomers degli ultimi 20 anni sono tanti spendono fino a 1000 euro al giorno eccetera 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 poi che cosa gli vendiamo servizio individuale coppie quattro persone full independent travel si chiamano FIT famiglie loro i bambini loro devono giocare facciamo una caccia al tesoro single gente che è vedovo gente che non è sposata o sono anziani o sono giovani piccoli o grandi gruppi le vostre case di vacanza mi dicevano che sono gruppi già un po' più grossi quindi bisogna pensare a un prodotto per un gruppo che può andare anche a diversa numerosità gli anziani è chiaro che gli anziani non possono correre capite che il prodotto deve prevedere il più possibile di personalizzarsi le situazioni la dioce ribato a qui fate il botto ormai la dioce ribato spendono un sacco di soldi quindi vanno in giro per l'Italia offritegli l'animazione con questi prodotti gli date l'animazione l'associazione dei funghi venite da noi che vi facciamo vivere un'esperienza incredibile i crall le scuole gli anziani e poi altri mille ne ho messi alcuni insomma non tanto per dirvi ecco qui non ho messo uno importante che mi sono dimenticato tutto il settore aziendale il turismo aziendale il MICE meeting incentive congressi eventi ecco questi vivono di team building questi prodotti possono essere potenziati per il team building e si divertono veramente tantissimo ok vado avanti veloce perché vedo che il tempo scorre e non ho tanto tempo ancora quindi per fare il prodotto vi serve la formazione per fare la strategia vi serve la consulenza sto parlando se volete fare le cose bene perché fare marketing non è che si inventa quindi bisogna avere i professionisti adesso se ho dieci minuti molto velocemente vi faccio vedere qualche buona pratica e casi di successo ne avrei quattro dura un minuto e mezzo vi faccio vedere dei video allora comincio con un hotel sono tutti casi legati all'accoglienza un hotel ca dei proverbi che dice io non voglio differenziarmi e quindi siamo andati abbiamo fatto un lavoro con loro e con la nostra guida di Venezia e ca dei proverbi dentro ci sono proprio stampati dal 1600 dei proverbi scolpiti e quindi abbiamo fatto un gioco per cercare i proverbi per ricostruire la cultura veneziana nei secoli intorno ai proverbi andando nei negozi andando in pescheria andando da quello che fa da mangiare cioè andando nelle varie calli ciascuna che aveva una sua origine nel medioevo per un certo motivo da cui i proverbi ecco quindi una specie di caccia al tesoro a contatto con le persone cercando il senso eccetera adesso se riesco vi faccio vedere il filmato spero che si senta la musica e il parlato allora guarda questa è la scheda questa è la scheda diciamo che trovate ma adesso vado subito sul filmato si sente la voce no ai 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 come si fa adesso tu non riesci a mettermi la voce proviamo ci dovrebbe essere un puntino per vedere la voce presenta fa il video ah lo dovevo avere già caricato come faccio a condividere la voce ma è piuttosto questi link e quali possiamo mettere in descrizione e li mandiamo verso o il vostro canale youtube o il vostro sito eh no volevo farli vedere commentarli perché il valore è quello lì altrimenti ma si può mettere la voce io ricordo che si poteva mettere la voce no allora prova a allora alcuni schermi consentono di condividere l'audio cerca la casella della prossima finestra allora condividi condividi anche l'audio ok quindi vado qui ah aspetta 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 ecco scusa scusa un secondo è che faccio ho capito come fare ok perfetto allora aspetta che faccio così ho capito allora un momento velocemente perché vedo che il tempo ormai sta finendo è bello della diretta dove è finito eccolo qua eccolo qua perfetto vado ciao sono Pierluigi sono titolare di alcuni alberghi a Venezia nei quali ospito molti appassionati che vengono di tutto il mondo per vivere una Venezia più suggestiva è autentica si sente adesso sì sì perfetto 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 ho avuto a seguire Heritaggio Dennis che è un'associazione che va a salvaguardare l'autenticità e le vecchie tradizioni in una città come la nostra ciao io sono Monica sono guida turistica abilitata di Venezia sono qui per portarvi alla scoperta di una Venezia insolita alla scoperta dei suoi segreti nei posti più impensati vi porterò in contatto soprattutto con le persone del luogo oggi ti propongo di partecipare ad un'avventura che si chiama Antiche storie di Venezia tra calli in botteghe e vecchi proverbi nel mezzo del mese di Sarese nel miei trecentodiese se desiderate vivere Venezia in un modo diverso dal solito cliché turistico non perdetevi questa grande occasione di Sarese e non perdetevi la scoperta di Venezia di Venezia in un modo diverso di Venezia allora torniamo qui dunque scusate che adesso sono un po' imbranato allora questo era un hotel di un certo livello scusate torniamo qui torniamo qui se non si vede una cosa comincia ad essere un attimo complicata presenta condividi schermo condividi schermo allora finestra finestra facciamo schermo intero se no non finiamo più si vede cade i proverbi no oh signore ecco ecco condividi ecco allora se riprendiamo lo schermo dell'altra volta vedete questo tipo di prodotto va sulla differenziazione e va sui 360 giorni all'anno ok quindi differenziazione probabilmente verso un turista straniero i 360 giorni all'anno anche per un turismo italiano allora velocemente Sauris è un piccolo paesino 400 persone 65 partite IVA un posto molto bello sperduto sopra Incarnia allora questo è un paesino che fa turismo ma un turismo di livello basso quindi la loro strategia è stata quella di lavorare sulla destagionalizzazione e sul weekend di prossimità cioè in stagione in stagione abbiamo scusate sto dicendo fuori stagione no sotto c'è la fuori stagione loro sono abbastanza conosciuti come posto però vogliono lavorare sulla destagionalizzazione dall'altra parte dove sono poco conosciuti dall'Italia estesa weekend di prossimità ecco con il lavoro che abbiamo fatto abbiamo fatto una serie di prodotti questi hanno vinto il premio mondiale delle Nazioni Unite Best Tourist Village il miglior borgo del mondo ecco questo per dire che fare le cose in questo modo funziona com'è che abbiamo lavorato con loro c'era un consorzio di alberghi 4 o 5 alberghi un'azienda di prosciutti spec eccetera che è entrata anche lei nel prodotto e vi faccio vedere adesso un prodotto che è stato fatto vedere anche al programma 4 hotel che coinvolge il albergo diffuso quindi velocemente andiamo anche qui allora scusate che qui bisogna fare veloci il carnevale di Sauris eccolo qua eccolo qua eccolo qua YouTube perfetto allora prendiamo prendiamo la scheda mi spiace che è un po' macchinoso fa sto lavoro allora presenta condividi schermo condividi schermo la scheda condividi e partiamo il carnevale di Sauris un carnevale molto particolare ciao io sono Lucia vivo a Sauris e lavoro nel suo piccolo museo etnografico sono molto legata alla mia comunità e mi piace raccontarne le origini la storia le leggende e le tradizioni come il carnevale ogni anno i partecipanti alla mascherata del sabato grasso si divertono a inventare nuovi personaggi e nuove scenette da interpretare durante il giro del paese il circolo culturale di Sauris è contento di avere la presenza di partecipanti che vengono da fuori valle ma al tempo stesso autorizzerà a partecipare solo coloro che avranno superato un esame di ammissione per dimostrare di essere in grado di interpretare una vera maschera del carnevale saurano se amate le tradizioni se siete curiosi e vi piace mettervi in gioco usando la creatività e l'ironia potrete candidarli anche voi io vi aiuterò raccontandovi le caratteristiche del carnevale di Sauris con le sue maschere belle e brutte e i suoi antichi rituali fino a vedere come nascono le maschere facciali linee assaggerete i vledlan le frittelle tipiche del carnevale confezionerete una cappellina da ricche e poi passerete alla fase della vestizione divertendovi a scegliere e indossare gli abiti e gli accessori per calarvi nei panni dei personaggi che interpreterete a questo punto avrete imparato come diventare autentiche maschere saurane e sarete pronti per presentarvi alla commissione del circolo culturale volete calarvi con me in questa esperienza sarà memorabile unica e irripetibile come tutte le storie di Sauris allora affrettatevi a prenotare noi vi aspettiamo ecco allora stiamo arrivando verso la conclusione e non vi farò vedere altri due video che avevo perché non c'è più tempo ma voglio non so se si è capito che non c'è un'attività in questo caso noi ci impossessiamo del paese andiamo dal cuoco in casa del cuoco andiamo da quello cioè andiamo in tutte le situazioni una roba che dura 3-4 ore e siamo letteralmente immersi nella situazione locale faccio vedere le ultime due slide a mo' di titolo allora un attimo solo e poi concludiamo perché mi pare che il tempo sia esaurato allora andiamo un po' se riesco siamo un po' giusti ma dall'altra parte siamo anche un po' in ritardo quindi una mano aiuta l'altra sì ecco qua allora quindi questo era il carnevale di Sauris ecco a Cetara ecco qui tutta un'altra situazione una cosa simile qui c'era una rete di alberghi e ristoranti Cetara è un paesino della costiera dove la costiera è affollatissima qui ci vanno solo per mangiare con questo sistema che abbiamo messo in piedi i ristoranti mettono insieme la ristorazione con l'experience per esempio qui vanno in giro con lo chef pasquale e vanno a raccogliere i prodotti vanno dal pescatore vanno da insomma tutte le situazioni e poi vanno dal ristoratore e imparano a cucinare i vari piatti che il ristoratore gli farà gustare cioè si è creato un meccanismo per tenere lì il turista tutta la mattina mentre ad oggi il turista va lì mangia e se ne va lì quindi attrattività ecco in questo caso diciamo una zona che turisticamente è meno affollata delle altre attrae con un target tematico che è molto interessante qui ed è l'ultimo siamo con un agriturismo dove il titolare fa parte di un gruppo di sbandieratori di caratteristici del posto per cui alla fine sono tutti coinvolti a imparare a sbandierare e poi chiaramente questi vanno a dormire nel suo nel suo agriturismo ecco in questo caso turismo ce n'è poco e quindi siamo sulla parte sinistra attraiamo per target tematico e i famosi weekend di prossimità concludendo allora vi ricordo il libro di cui vi ho accennato poi per chi di voi fosse interessato ad approfondire questi temi vi dico anche che abbiamo dei corsi devo fare un po' di pubblicità il prossimo sarà ottobre 15 16 23 24 ottobre che è proprio introduttivo tutte queste cose per cui se qualcuno di voi dice caspita qui vedo un'opportunità voglio capire meglio c'è anche una promozione che venga www.progettoartes.it io ho terminato la mia mail è maurizio.testa chiocciola progettoartes.it vi ringrazio per l'attenzione insomma siamo arrivati mi pare giusti fantastico veramente è stato eccezionale riuscire a concentrare così tanti contenuti così tante esperienze in così poco tempo veramente chapeau in questi anni in questi 11 anni del portale ho incontrato tanti addetti ai lavori nessuno con la sua capacità di riassumere così tanti concetti e tanti consigli utili per le strutture ricettive in così poco tempo Maurizio veramente grazie mille per i tanti consigli e soprattutto per i casi studio perché poi questi sono quelli che fanno partire le scintille e possono veramente aiutare a far friggere positivamente il cervello quindi grazie ancora per se qualcuno vorreste metterci in contatto con me all'email non si vergogni mi scriva pure io volentieri entro in contatto ma anche così cose domande non sono curiosità volentieri assolutamente noi al termine di questo evento domani nei prossimi giorni manderemo una serie di email con i recapiti di chi abbiamo coinvolto di modo che possano in un qualche modo interagire con chi ci ha aiutato durante queste live grazie mille ancora ci spostiamo sull'altra live perché io sono già sul doppio schermo e adesso dobbiamo iniziare l'altra live sulla fiscalità grazie ancora grazie a voi